Nella prima parte abbiamo affrontato l'argomentazione sulla logica dell'esistenza del male e della sofferenza, che in sostanza mira a dimostrare che se il male e la sofferenza esistono, è logicamente impossibile che Dio esista. Abbiamo spiegato e dimostrato come persino dei filosofi non credenti ammettono che questa argomentazione è fallace. Ma non finisce qui. È comunque possibile concludere che, benché la coesistenza di Dio e della sofferenza sia possibile, non è tuttavia probabile. C'è così tanta inutile sofferenza da rendere improbabile che Dio possa avere delle buone ragioni per permetterla. Questa è la versione probabilistica del problema. La sofferenza ci offre un'evidenza tangibile che l'esistenza di Dio non è impossibile, ma è molto improbabile. È una buona argomentazione? Esaminiamo questi tre punti. Primo, non siamo nella posizione di poter dire con certezza che molto probabilmente Dio non ha buone ragioni per permettere la sofferenza nel mondo. Siamo a essere limitati da tempo e spazio e capacità intellettive e cognitive. Dio invece ha una panoramica completa della storia di ognuno di noi e delle scelte che facciamo liberamente. Per raggiungere il suo proposito, Dio potrebbe dover permettere molta sofferenza lungo il cammino. Della sofferenza che a noi sembra insensata nella nostra limitata comprensione potrebbe essere permessa da Dio nella sua visione più ampia della vita. A volte le cose che viviamo sembrano non avere senso, finché non acquisiamo una prospettiva più ampia e possiamo vedere il quadro generale disegnato dal nostro creatore. Ecco il secondo punto. Se siamo disposti a misurare l'evidenza allargando i nostri parametri, potremmo concludere che sia assai probabile che Dio esista. Vedete, le probabilità sono sempre in relazione alla totalità delle informazioni. Facciamo un esempio. Se dovessimo considerare solo il peso di questa persona, diremmo che è molto improbabile che questa persona sia un atleta di portata mondiale. Ma se fossimo disposti a recepire informazioni aggiuntive, apprenderemmo che è un lottotore di sumo e che è un campione mondiale. Allo stesso modo, quando un non credente dice che l'esistenza di Dio è improbabile, dovremmo chiedergli, improbabile secondo quali dati? Se prendiamo in considerazione solo la sofferenza nel mondo, l'esistenza di Dio potrà sembrarci molto improbabile. Ma se siamo disposti ad esaminare i dati nella loro complessità, prendendo in considerazione le molteplici fonti di argomentazioni sull'esistenza di Dio, potremmo approdare conclusioni molto diverse. Il terzo punto è che il cristianesimo ci presenta delle dottrine che aumentano la probabilità della coesistenza di Dio e della sofferenza. Esamineremo quattro di queste dottrine. La prima, lo scopo ultimo della nostra esistenza non è la felicità. Le persone spesso presumono che se Dio esiste, il suo ruolo è di creare un ambiente confortevole per i suoi cocciolotti umani. credono che lo scopo ultimo della nostra vita sia l'essere felici, per cui Dio è obbligato a renderci felici. Il cristianesimo tuttavia ci presenta un punto di vista radicalmente differente. Ci dice che lo scopo della vita è conoscere Dio e solo questo può darci un vero e duraturo senso di realizzazione. La sofferenza può portare a una più profonda e intima conoscenza di Dio, sia da parte di chi soffre che da chi gli è accanto. Il senso stesso della storia umana è che Dio, avendoci dato la libera scelta, sta attirando quanta più gente possibile nel suo regno eterno e la sofferenza può essere lo stimolo attraverso il quale scegliamo liberamente di avvicinarci a Lui. Di fatti, i luoghi dove la vita è più difficile spesso sono quelli con la più alta crescita del cristianesimo. Dio sussurra nel nostro benessere, parla alla nostra coscienza, ma la sua voce è forte e chiara nella nostra sofferenza. È il suo megafono per destare la sordità del mondo. La seconda è che l'umanità è in ribellione a Dio e ai Suoi propositi. Le orrende malvagità umane sono la testimonianza della depravazione dell'uomo come conseguenza del suo allontanarsi da Dio. Il credente non è sorpreso dal degrado morale che c'è nel mondo, anzi, se lo aspetta. La terza dottrina afferma che lo scopo di Dio per l'umanità non è confinato a questa vita, ma si proietta oltre la morte verso la vita eterna. Questo mondo è solo l'inizio. La porta verso una inimmaginabile vita senza fine oltre il portale della morte. L'apostolo Paolo, che ha scritto buona parte del Nuovo Testamento, ha passato sofferenze, avversità, calamità, percosse, imprigionamento e fame, e tuttavia scrisse. Perciò non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno, perché la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo intento, non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, perché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Paolo comprese che la nostra vita terrena e qualunque sofferenza che abbia in serbo per ognuno di noi è temporanea. Il nostro dolore non durerà per sempre. La nostra vita con Dio, invece, sì. Egli non stava sminuendo i problemi di coloro che soffrono orribilmente in questa vita. Di fatti Lui stesso ci racconta dei Suoi, ma comprese che queste sofferenze saranno un giorno travolte per sempre dallo sceno di gioia che Dio darà a coloro che lo hanno liberamente accettato. E la quarta dottrina è questa. La conoscenza di Dio è un bene incomparabile. Conoscere Dio è il supremo adempimento della nostra esperienza umana, un bene infinito. Per cui la persona che conosce Dio, non importa quanto ha sofferto, può comunque dire Dio è stato buono con me. Quindi se il cristianesimo è vero, non è affatto improbabile che esistano sia Dio che la sofferenza. Riassumendo, per tutte queste ragioni, la versione probabilistica del problema dell'esistenza del male è altrettanto errata di quella logica. Rimanendo su un piano puramente intellettuale, l'esistenza del male non confuta l'esistenza di Dio. Ma anche se queste argomentazioni intellettuali sono errate, il problema emotivo rimane in tutta la sua potenza. Se hai sofferto profondamente, se hai visto una persona amata soffrire intensamente, potresti pensare Cosa mi importa che Dio esiste? Perché dovrei parlargli o adorarlo? Mi sento solo e vuoto. Non voglio avere niente a che fare con Dio. Non sei solo. Dio ti conosce per nome. Sa chi sei e cosa stai attraversando. Dio ha promesso di esserti accanto nella tua sofferenza. Può darti la forza per sopportarla. Anche Gesù ha sofferto. Benché fosse innocente, è stato torturato e condannato a morte. La sua sofferenza aveva uno scopo. Offrire a te e a me la connessione vitale con Dio. Non solo Dio esiste, ma ti ama. Ti cerca. Ti offre una speranza e a tempo debito farà ogni cosa nuova. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte. Né cordoglio, né grido, né dolore. Perché le cose di prima sono passate.